È nato quasi tutto per caso, voleva scrivere una lettera alla figlia, mettere nero su bianco alcuni pensieri, ne è venuto fuori un romanzo fantasy. Lui andrà a scalco, nativo di Camposampiero in provincia di Padova, dal 2007 si è trasferito per amore a Bolzano. Fin da bambino ha sempre manifestato una forte necessità comunicativa che lo ha portato, quasi per caso, a scrivere ora il suo primo libro dal titolo Padrona dei sogni, edito da Armando Curcio. Noi lo abbiamo incontrato per farci raccontare questa nuova e per certi versi inaspettata avventura. Non ci credo ancora, sono sincero. È una cosa che mai mi sarei aspettato. L'ho scritto per piacere e non avrei mai pensato che qualcuno l'avrebbe pubblicato, sono sincero. L'idea è nata un po' per caso, all'improvviso, volendo fare un regalo speciale per il tredicesimo compleanno di mia figlia. Fatalità, sono partito a scrivere proprio l'8 marzo del 2020, che è coinciso Fatalità con l'inizio del lockdown per il Covid. Protagonista del libro è Nausicaa, dalla mente acute e dalla fervida immaginazione. Nausicaa, in realtà, che è il nome della protagonista, che è la padrona dei sogni, era uno dei due nomi che erano in lizza per il nome di nostra figlia, ovvero anche il nome di un'eventuale seconda figlia, purtroppo non c'è stata. La vita di Nausicaa è intensa, sia di giorno sia di notte, grazie ai sogni che la portano a vivere stupende avventure attorniata da tanti personaggi. Tutto però cambia quando il confine tra la realtà e il mondo onirico si mescola. Si affrontano valori importanti come l'amicizia, la famiglia, perché la protagonista ha un rapporto molto stretto con la famiglia e infatti questo la fa anche soffrire ed è, la coinvolge in avventure molto molto particolari che coinvolgono, spero coinvolgano molto il lettore. A spronare Andrea Scalco a provare a pubblicare questo libro, La figlia e la moglie Esther, un sogno che si è trasformato in realtà grazie alla casa editrice Armando Curcio, che ne ha accolto le potenzialità. Io mi auguro che possa essere anche utilizzato, perché è recepito dalle scuole, perché secondo me è tratta tematiche importanti, anche sfruttabili come testo didattico, come accompagnamento didattico. Il libro Padrona dei sogni, ancora fresco di stampa, è composto da 31 capitoli, un viaggio tra fantasia e realtà, perché in fondo, forse, ciò che per ognuno di noi è vero, per altri è sogno, oppure tutto, è il contrario di tutto.